Ci siamo davanti a Padiglione Lombardia che non è ancora finito, il secondo piano non è accessibile, il primo piano abbiamo visto, siamo entrati, fondamentalmente non c'è nulla, ci sono ancora cavi scoperti, è ancora in fase di allestimento, questa è la magnifica eccellenza Lombarda. Se in più ci mettiamo, che sotto doveva esserci una croce, è stato coperto col camouflage perché era una cosa davvero orribile, impresentabile, abbiamo chiuso il cerchio. Grazie.